Il momento complicato, è arrivata un'altra sconfitta pesante e la squadra da domani sarà in ritiro. Sì, da domani andiamo tutti in ritiro, almeno fino alla partita col Pordenone e comunque fino a data da destinarsi. Questa sera una partita che ha avuto una storia abbastanza precisa, fin da subito in particolare, purtroppo altri due gol subiti da Pallinattiva che hanno complicato enormemente la serata. Sì, sicuramente la gestione delle Pallinattive sta diventando un problema, però c'è un problema più grande che è quello di trovare il modo di giocarsi le partite fino in fondo, di avere la dignità di combattere fino alla fine, fino al novantesimo, cosa che non è successo oggi e questo non è tollerabile per l'Entella. Quindi ripartiamo proprio da questo, non parliamo né di classifica né di risultati, parliamo di dignità, di metterci in condizioni di combattere ogni partita, di arrivare in fondo giocandosi tutte le situazioni, tutti gli scontri di gioco, tutte le situazioni che ci sono nella partita di calcio che ormai è diventata un'abitudine che nel finale non facciamo delle gare, non facciamo più, come se ci fosse un crollo nervoso che non ci permette e non ci consente di giocarsi la partita come vanno giocate nei campionati di calcio. Anche perché c'è una tappa importante venerdì, lo accennava lei, arriva il Pordenone al Comunale e diventa una sfida assolutamente fondamentale che come atteggiamento la squadra non può sbagliare. Sì dai, comunque chiunque arrivi venerdì al Comunale, lo ripeto, non si tratta di Pordenone, Spal, Monza, Empoli, si tratta di ritrovare una squadra che sappia combattere per 90 minuti, che sappia giocarsi la partita, che non molli, che non ceda così in maniera clamorosa come è stato fatto oggi perché credo che non sia giusto e che sicuramente abbiamo l'obbligo di fare diversamente, di avere un atteggiamento diverso fino alla fine, di credere in quello che facciamo perché non è possibile che tutte le volte che la partita prenda una piega negativa non ci sia la lucidità, la cattiveria di portare in fondo la gara combattendo e giocandoci alla fine alla fine.